Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Sto provando una versione in anteprima, non disponibile normalmente, di quella che sarà la versione finale, perché in 1.0 arriveranno anche le invasioni di troll insieme ad altri edifici e altre cose che appunto usciranno alla release. La traduzione potrebbe riportare, come vedete in questo caso, degli errori perché appunto la versione di gioco è quella diversa per cui è stata realizzata, insomma. E la traduzione, ricordatevi, non risponderò nei commenti sotto linkando nulla, dovete andare sulla pagina o soprattutto sul Discord dei TWAR, i traduttori, e da lì la potete scaricare e se volete potete anche fare una donazione per il loro lavoro. Hanno tradotto un sacco di giochi e mi sembra ingeneroso darvi un link diretto qui, perché non è giusto, è giusto che andiate a vedere. E come mia politica non risponderò ai messaggi dove l'hai trovato in italiano. Poi, se il gioco uscirà in italiano in 1.0, questo non lo so. La proviamo, lo proviamo. Il gioco che cos'è? È un city builder fantasy, completamente fantasy, quindi tra le minacce avremo le streghe, cavalieri scuri, draghi, eccetera. Iniziamo il tutorial, abbiamo due modalità, o inserire un seed, vabbè, manuale, costruisci, gestisci il regno, esplora il territorio per trovare nuovi segreti e regni attraverso l'amore o la guerra, e poi la creativa tutto sbloccato gratuito. No, noi lo proviamo così e andiamo a vedere... non saprei neanch'io da dove partire. Questa zona qua. Sono un principe, altezza di redino. Cerco una principessa. Il mio nome è Indy. Dimensione del Regno Grande, colline poche, oceano medio, foresta normale. Dai, mi piace. Possiamo modificare anche lo stem, ma non mi inter... beh, Dio. Magari non l'incudine, neanche la scarpa. Facciamo la corona. La spada, dai. La spada. Colore... mettiamo il nostro colore societario. E andiamo. Hai scelto il mio preferito. Ok, vediamo in che cosa consiste questo Fabledome, che letteralmente credo significhi fiaba, favola, insomma. C'è una volta, così inizia. Ah sì, dovevamo rimastersi. Il nostro regno è iniziato con poco più di una modesta capanna del lavoratore. Ah, dove è andata a finire? Di nuovo? Sì. Nuovi territori di abbondanza, campi e alberi, fertili, produttivi, uccelli e api. È il tuo turno, principio o principessa. Tu scopri, conquista. Con audacia. Ricordami che non è solo la spada che fa di un signore, di uno un signore o una signora. Costruire un regno e un'arte, ma non trascurare il cuore del tuo spirito. Sì, poi è in lavorazione la traduzione, quindi viene sempre migliorata. Attraverso l'amore e la guerra, queste tre infiammate saranno unite per sempre. Ora vai, siate gentili che vedete gli scorvuti, ci rendete felice il vostro futuro. Happy. Preparazione del regno. Potrebbe metterci un po' al primo avvio, ma è perfettamente normale, quindi noi attendiamo. Ed eccoci qui, siamo a un nuovo inizio. Abbiamo dei villi, ci vedo. Sposta la telecamera usando WASD. Zoom avanti e indietro, scori ok. Punta la telecamera tenendo premuto il pulsante centrale del mouse, muovendo. Oppure premendo QE, QE, ZC. Ok, spero si fa più semplicemente con questo. Ok, ricevo 10 monete. Ok, mentre ogni mondo è generato proceduralmente, i valori elencati qui possono dare un'idea di come sarà il mondo. Costruisci 5 strade di ghiaria, una baracca dei costruttori e segno lavoratore. Ok, quindi costruiamo una baracca dei costruttori, che la mettiamo qua. Ah, la costruisce subito. Un posto di lavoro richiede Fablinks per funzionare. Puoi segnare Fablinks cliccando... Ok, sono i cittadini i Fablinks. Va bene, dobbiamo costruire anche le strade. Quindi la strada, 5 strade dice. Cercheranno di seguire le strade nel miglior modo possibile. Collegare le strade, gli aiuterà a orientarsi. Ok, quindi facciamo una. Costa risorse? No, 2, eh sì, costa 2. 2. Ah, l'abbiamo già costruite con tavole caselline. Ok, dobbiamo assegnare un lavoratore, quindi assegniamo un lavoratore, uno di questi 4 va e ci lavora. Costruisci una casa. Ok, perché vedete si divide tra strutture essenziali e strutture di base. Allora, una casa. Alcuni edifici utilizzano proprietà accessori. Dopo aver posizionato l'abitazione, tieni premuto trascina per... Ah, ok. Ah, bellino questo. Particolamente noi piazziamo la casa e intorno gli diamo la proprietà. Bello. È un po' sullo stile Man of Lords. Costruisci una casa. Due accessori per la casa. Ok, eccoli qua. Stendi biancheria. Costruisci. Ah, la casa la devono costruire. E serve legna, quindi... Iniziano. Dovrò costruire la doppia e assegnare un capofamiglia. Ok. Questo è un gioco praticamente fantasy. Infatti avremo maghi, avremo cavalieri, insomma... Draghi, magia, insomma... È il gioco dei sogni per chi ama come me i fantasy. Comunque, non credo si possa accelerare la velocità, ma intanto, vabbè, qua possiamo dare la solita priorità. Possiamo dare anche, appunto, due... Dobbiamo metterli per il tutorial. Anche due accessori. Non so se me la fa costruire adesso. Sì, penso. Una residenza richiede un capofamiglia per funzionare. Puoi assegnarlo cliccando gestisci famiglia. Se il fabling che si trasferisce nella residenza non ha un lavoro, verrà assegnato automaticamente. Un capofamiglia si assicurerà che la casa sia fornita di cibo. Ok. Due accessori per la casa. Io non li ho costruito. Ah, il pollaio piccolo e albero di mele. Ok, è già stato costruito in automatico. Però cliccando qua, penso, possiamo andare a aggiungerne altri. Ma... No, l'ha già fatto in automatico. Ha fatto il pollaio e ha fatto l'alberello di mele. E infatti l'ha già fatto da solo. Ora, una delle grandi istruzioni che il gioco dà, che ho letto, è se non sai cosa fare, segui le istruzioni. Infatti, quello che stiamo facendo. Allora, il pozzo interessa un'area. Quindi l'area non ha senso metterla qui, la metteremo magari... No, ma in realtà la si potrebbe anche mettere qua, eh. Tanto non ci porta via troppo. Ok. Alcuni edifici richiedono un costo di gestione per rimanere in buone condizioni. Per vedere quando è previsto il prossimo pagamento, posiziono il cursore sull'icona della moneta in alto dello schermo. Ok. Allora, qua il pozzo. L'icona della moneta qua. Prossimo pagamento tra due giorni. Ok. Allora, praticamente qua mi ha già scelto il capofamiglia. Gestisci la famiglia. Ah, ok. Il capofamiglia e altri residenti. Ok. Hanno già un capofamiglia. Ma tanto sono solo quattaro villici. Felicità non c'è. Popolazione quattaro. Contadini quattaro. Disoccupati due. Nuovo arrivo. Prossimo traguardo. Borgo. A dieci persone aumenteremo la nostra popolazione. Dobbiamo fare il pozzo. Termina la costruzione di due case. Quindi dobbiamo costruire un'altra casa. Ah, la posso ruotare col tasto R. Ok. La metterei qui. E poi gli piazzo la proprietà intorno. Così. Così è il massimo. E non posso... Ah, posso dire di piazza gli accessori casuali. Oppure scelgo io. Ma non me li fa scegliere però. Quindi fai i casuali, va? E costruisci. Praticamente paghiamo dei soldi per costruire. Ok. 15 di legna. Tanto qua stanno... La baracca dei costruttori stanno costruendo. Abbiamo 175 di legname. Quindi a breve poi dovremo anche iniziare a costruire. Ecco, si sono sbloccate un po' di strutture. Industria e stoccaggio. Abbiamo campo di legname. Strutture essenziali. Servizi militari. Fortificazione. Perché qua c'è... Diventa anche una sorta di... Non dico tower defense, ma ci saranno le battaglie. Quindi ci sarà modo di andare a... Vediamo intanto i vildici. Vedete qua abbiamo... Questa è Eva Torres. Con i bisogni, i suoi pensieri. Possiamo seguirla con le telecamere. E selezionare una casa. Ok. E ci riesce scritto cosa sta facendo. Si gode un po' di tempo libero. Tradotto bene, devo dire, aiuta molto. Soprattutto per apprendere le basi di gioco. Poi probabilmente non è un gioco così complicato. Però so che molti di voi lo vogliono in italiano. Questo è in italiano adesso, quindi... Molto carino. Ripeto, non risponderò ai commenti come mai ce l'hai in italiano. Perché l'ho detto all'inizio. Tvwr, gruppo di traduzione. Trovate lì. È gratuita. Potete anche fare una donazione se volete contribuire. Ma lo trovate da loro. Dai il benvenuto ai nuovi Fabling. Cioè, cosa vuol dire? Aspetta che arrivi nuovi. Ok. Puoi passare il mouse sull'icona della popolazione. A parte superiore per vedere quanto tempo manca. Ok. Arrivati adesso. I primi nuovi arrivati. Finché mantieni felice la tua popolazione ne arriveranno altri. Ovviamente se c'è spazio. Benvenuti. Ok. Benvenuti due visitatori. Ok. Festa. Bene. Sala principale del palazzo. Mamma mia. Condominio. Complesso abitativo. Eh sì. Case popolari. Pozzo cittadino. Pozzo semplice. La fognatura addirittura. Il smaltimento dei liquami. Bello. Intanto prendiamo soldi. Costruisci una fattoria. Trenta colture di rottaggi. Assiedi un contadino. Quindi adesso io piazzerei una stradina qui. Se possiamo. Questa. Ok. Mi costa un po' ma va bene. Vediamo un po' dove. Agricoltura. Fattoria. Piazziamo qui perché sicuramente mi farà fare i campi da qua. Rotaggio. Che cosa? Eh non me lo dice. Però. Logica. Vediamo. Beh la crescita è la stessa. Quindi. Pianti anche a rote. Dice di farne 30. Trenta colture di rottaggi. Eh. Così. Così. Non abbiamo. 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30. Costruisce. Crasceranno nel tempo a parte che un contadino sia assegnato al fattoria. Ok. Quindi aspettiamo che costruiscano la fattoria. Un solo tipo di coltura. Sì sì infatti. Allora aspettiamo che lo costruiscano. 26. Perché 26? Ho contato male. Ah perché c'è questo. È vero, è vero, è vero. Giusto. Giusto. Avete ragione. Quindi. Costruiamo altri. No. Questo. Eh. 4. Quindi mettiamo qua. Perfetto. Sì perché non avevo calcolato che in effetti qua la fattoria non conta. Va bene. Aspettiamo che costruisca. Sembra che arriveranno presti. Ok. Ok. Ancora. Ancora. Eh sì. Tra cinque giorni. Diventeremo un borgo. Eh. Con le prossime persone. Assegna un contadino. Ma posso già assegnarlo? No. Dai la priorità. Costruite questo affare qui. Dai. Per favore. Con calma. È proprio il mondo delle favole questo. Si vede che non c'è pressione. Sono tutti tranquilli. Intanto vediamo che qua c'è il granaio. Il mulino a vento. Il forno a legna. Polario Grande. Porcile. Capanno del pescatore. Fattoria delle vignie. Costa 21 euro il gioco comunque. Ed è confortante il fatto che ormai è in 1.0. Quindi è completo. Non ci saranno più cose da aspettare. Incomplete e così via. Quindi interessante se vi piacciono i giochi. Allora. Io di questo tipo di giochi non apprezzo. Cioè amo di più. Manor Loads o Farters Frontier. Per il fatto che non sono così geometrici. Cioè se guardate il posizionamento delle strade. È su griglia. Ma ci si può passare anche sopra. Perché comunque è bello comunque da vedere. Anche se verrà tutto abbastanza simmetrico. Purtroppo. Però sono questioni di programmazione. Mi manca la pietra però. Perché non la pietra? La pietra ce l'avevamo. Sì. 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 Ok. Ah qua in alto si velocizza. Ok. Velocizziamo allora. Così. Tanto stanno portando il legname. Manca la pietra. Tra l'altro io potrei assegnare due costruttori. Così per velocizzare. Mi prendo una licenza nonostante il tutorial. Dovremmo 5 alla volta. Adesso portano le altre 5. E costruisce. Ok. Non capisco perché alcuni edifici vengono costruiti immediatamente. Altri no. Però va bene. Congedare visitatori? No. Allora. Due nuove arrivate. Allora mettiamo in pausa qui. Assegno un contadino e prendo 30 monete. Ora. Due su due desidera rimanere. Nuove arrivati. Perché li devo congedare? Facciamo una casa no? Non credete che sia una bella cosa fare la casa? Facciamo la casa. Priorità. Costruisci un campo di legname. Assegna un taglia legna. Uh. Aspetta. 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 Industria e stoccaggio. Ok. Campo di legname. E assegna un taglia legna. Lo mettiamo qua. Facciamo la strada. Il campo di legname va costruito. Non è costruito automaticamente. Facciamo la strada. Va qui. E poi. Sempre da qui. Si unisce a questo. In modo che. Ok. Capacità insufficiente. Perché non abbiamo le case. Struite le case. Dai. Cortesia. Ok. La fanno. Così riusciamo a rimanere un po' di persone. Infatti. Possiamo farne rimanere due. Benvenuti due visitatori. Siamo a otto. Nove. Non siamo ancora un piccolo borgo. Deve fare un'altra città. Inizia a prendere un po' forma il villaggetto. Il pozzo copre tutti. Quindi possiamo magari anche pensare. Eh. La strada da qua. Non possiamo farla. Però. Secondo me. Possiamo mettere una casa. Anche qui. E gli mettiamo una. La stradina che va su. Così. La casa così. Mi parte sta musica simile alla. La contea. Così. E poi. Un'altra strada. Magari che va di là. Così. Va bene dai. Acceleriamo un po'. La segniamo un taglia a legna. E quindi. Andiamo avanti. Ok. Al taglia a legna. Praticamente copre questa zona qua. Non so se sia possibile. Accessori. Guardia boschi. Eh sì. Poi spendendo si potrà aggiungere il modulo guardia boschi. Quindi. Ripiantare quello che tagliamo. Qua ci sono anche dei maiali. È stata completata la costruzione di casa. Cuccia per cani. Ah. Li ha fatto. Ok. Ok. Possiamo fare rimanere altra gente. Possiamo traguardo tra un giorno. Ok. Ok. Allora. Perché erano tutti lì. Ok. Benvenuti due visitatori. Perfetto. Abbiamo raggiunto. Questo è un po'. Sullo stile di Farters Frontier. O cielo. Siamo già riusciti a trovare abbastanza fablings. Così coraggiosi. Ma anche di City Skylines. Insomma. La tua famiglia si aspetterà dei pagamenti ricorrenti. Zero monete per il fondo familiare. Vabbè. Hai ricevuto. 50 moneta. Locanda. Miniere di pietra. Carbonaria. Granario. Guardia Boschi. Ok. Mi chiedo. Mi chiedo. Quali sono gli edifici un po' più particolari? Campi di tiro con l'arco. Questo non è tradotto ancora perché deve essere un edificio nuovo. Terreno per spadaccini. Caserma. Caserma degli eroi. Servizi. Abbiamo la locanda. Fatti tasse. Posiziona tre decorazioni. Intanto prendiamo queste monete. Gli scuoti di 200 in tasse. Ci vorrà un bel po'. Tre decorazioni. Vabbè. Poi vediamo. Anche questo. Ce ne sono tante di nuove che devono essere ancora tradotte. C'è anche la ruota panoramica. Teatro di strada. Aspetta col maionette. Il circo. E no. E la. Vedetela qui la ruota panoramica. Vedete che non è. Non è ancora tradotta. Quindi. Ci sta mettendo mano il traduttore. Perché la tiene sempre aggiornata. Quindi. Diciamo che. Per l'uscita. Per quando vedrete il video. Magari la traduzione sarà già pronta. e avrà tutto. Mancano i nomi. In sintesi. Poi vedete che il resto è tradotto. La taverna. Alcun edificio ne ha un effetto positivo. Sì. Lo piazziamo qua. Così a portata di tutte le case. Mettiamo magari più in questa zona così. Così andiamo. È un po' uno spreco. Però va bene. La mettiamo lì. Ah ma tra l'altro. Va beh. Decorazioni. Mettiamo decorazioni. Fiori. Ah si spendono praticamente soldi. Una. I pinetti. Qui. E un cespuglio. Qui. Che abbelliscono le case. Ok. Va bene. Dai. Accelera un po' il tempo. E vediamo che costruiscono. Agli scorti di 200. Ma le trentaste ci vorrà un po'. Il cipresso. È migliore. Ma non ho messo niente che migliora. Ah questo sì. Dovrebbe dare un pochino più di benessere. Di colore. Eccolo. Fatto. Una su tre. Ok. Allora. Posizionata delle decorazioni. L'ho fatto. Ok. Seleziono un campo di taglio per costruire un guardia boschi. Ok. Una minisera. Minisera. Un magazzino. Allora. Intanto prendiamo il guardia boschi. E facciamo qua. L'avevamo visto prima. Questo. E lo piazziamo. Deve essere all'interno. Ok. Lo metto qui. Ok. Eh sì. Perché siamo nei confini del villaggio. L'ho messo proprio ai limiti. Va bene. Adesso. Fatto questo. Una minisera. Minisera. Ripeto. Non so che cosa voglia dire. Miniera. Di pietra. Ok. E' sfuggita una letra. Ok. Deve essere collegata. Non è solo funzionare. Ok. Dove essere. Eccola qui. La miniera. Deve essere collegato al deposito di pietra piccolo. Scusami. Ma com'è come la posiziona? Ok. Così. Aspetta. Campodiniamo. E' magazzino. Cos'è esce un magazzino? Cos'è un magazzino. Lo mettiamo qua. Sulla strada. Perché poi la strada arriverà giù da lì. Usa il lato. Ok. Ah. Ok. Ok. Magazzino. Costruisci. Va bene. Scusami. Riesci a dare la modalità di modifica. Affidata a locanda del villaggio. Una delle mie preferite. Ok. Abbiamo costruito anche la locanda. Va bene. Adesso. Perché non me lo fa fare? Perché devo piazzare il deposito. Uno. Due. Tre. Costruisci. Ok. Abbiamo piazzato il magazzino. Capricità di stoccaggio. Poi. So che spendiamo un po' di soldi. Ma ci sta. Ok. Non possiamo costruire fuori. Perché non possiamo costruire fuori. Perché la regione non è sbloccata. Quindi tecnica. Ah. Ma la facciamo di là. Giustamente. La mia è solo un bambu. Io vabbè. Allora. Deve essere collegato. Ok. Così. Ok. Perfetto. E l'ho fatto lì. E vabbè. Ho sbagliato. Insomma. Possiamo annullarlo ancora? Distruggi. Confermare l'emolizione. Sì. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Quindi adesso. La strada. La mettiamo qui. Qui si fanno. Diamo la priorità. Fanno la priorità alla miniera. Della verità. Non abbiamo visto ancora nulla di fantasy. Ma il fantasy arriverà. Perché poi ci sono le rovine. Incontri. Dove potremmo usare l'eroe. Quindi magari. Me lo tengo lì. E ci faremo magari una live. Di approfondimento. Perché no. Dopo ovviamente l'uscita. Prima non lo. Non lo vedrete. Perché questioni di embargo. Guardate quante carote. Dobbiamo fare anche un magazzino. E il magazzino adesso lo ripiazziamo bene. Lungo la strada. Lo mettiamo qua. Lo mettiamo qua. Con. Uno. Due. Tre. Pezzi di. Ok. Adesso. I soldi non ne abbiamo tantissimi. Ma. Dobbiamo riscattare un po' di. Un po' di denaro. Qua. 83. Dai. Ce la faremo. Farne 200. Acceleriamo i tempi. Così vediamo la miniera. L'opera. Dobbiamo vedere anche quanti. Disoccupati due. Quindi. Il costruttore. Adesso ne abbiamo due. Poi ne torneremo magari a uno. Se avremo bisogno di qualcun altro. Comunque vedete. La cosa che. Mi piace moltissimo. Di giochi come. Far test. O. Manor Lords. È il fatto che non è così simmetrico il villaggio. Poi. Vabbè. Può piacere o meno. Insomma. Gioco anche questo. Non. Non è fotorealistico. È fumettoso il gioco. E quindi è bello lo stesso. Intanto la miniera operativa. Do un. Lavoratore. Quindi adesso dovrei averne uno solo libro. No. Disoccupati trae addirittura. Non so perché. Comunque ho segnato un lavoratore. Lui inizia a scavare la pietra. Quindi avremo le nostre entrate. Oltre che di legna e di pietra. Ci servirà anche il carbone e il grano. Vabbè. Abbiamo carote. Quindi. Va bene. Abbiamo le stagioni. Perché poi arriverà l'inverno. Ok. Abbiamo completato questo. Ora. Seleziona un fabling utilizzando il menu panoramica. Dov'è il menu panoramica? Questo. È un ottimo strumento per gestire l'inverno. Man mano che cresce. Da qui puoi avere una panoramica sui tuoi fabling. Luoghi di lavoro. È così. Cambia scheda per vedere ulteriori informazioni. Posti di lavoro. Ok. Finanze. Grafico. E cose varie. Ok. Carbone. Posti di lavoro zero attivo. Ok. Poi. Seleziona un fabling utilizzando. Ok. Quindi. Selezioniamo 1 e 1. Seleziona. Assegna un fabling nuovo lavoro usando il menu panoramica. Quindi praticamente questo che è disoccupato. Io gli posso assegnare un lavoro. Individuo. E come faccio ad assegnarglielo. Posso dare a rinominarlo. Posti di lavoro. Allora si chiama Shannon. Locanda. Shannon. Ok. Infatti avevamo la locanda senza lavoratore. Ok. Acquista un nuovo territorio. Ok. Come acquistiamo un nuovo territorio? Ok. Qua. Praticamente territori. E vedete che possiamo andare a... Mamma mia. Ce ne sono un po'. Non tantissimi. Ma ce ne sono. Pare. Edio. Sì. È un po' sì. Possiamo comprare questo. Che ha il territorio con grande deposito di pietra. Possiamo prendere questo piccolo deposito pesce. Ma il pesce ce l'abbiamo anche qua. Di qua invece abbiamo Bob Marskin, la scarpa scomparsa, gregge di maiali. Io comprarai questo. Basta. Dobbiamo aggiungere il piccolo villaggio. Quindi tra 18 persone avremo... Cioè quando avremo 18 persone avremo... Ok. Abbiamo la scarpa scomparsa che avvia una quest. In incontro. Puoi interagire con esso. Utilizzando il tuo errore. Ok. Maiali. Dovrebbe esserci un tizio qui. Un errore. Comunque. Perché ce lo dava. Un errore come... Comunque. Di qua non c'è granché ma possiamo espanderci comunque. E non abbiamo un errore comunque. Ok. Costruita la locanda. Acquisito nuovo territorio. Dobbiamo con questi nuovi soldi espanderci ulteriormente. Quindi magari andiamo a piazzare un'altra casetta qua. Una o due. Un paio. Piccolina così dai. 51 ci costa. Mettiamo una anche di qua. Questa è un po' più grande. 55. E ne mettiamo una terza anche qua. Abbiamo speso praticamente tutti i soldi però almeno adesso possiamo iniziare a costruire. Allora. Il gioco è senz'altro molto interessante. Andrà approfondito magari in live. Soprattutto perché il gioco è fantasy. Quindi abbiamo tanti elementi fantasy. Ci saranno draghi, streghe e cose varie. Al momento non abbiamo visto nulla di tutto questo. Ma il gioco è tradotto bene. Quindi complimenti allo sviluppatore e grazie soprattutto. E dovremo poi andare avanti e vedere quando si sbloccano questi elementi fantasy. Perché comunque. Frontest Frontier e Manor Lords non hanno nulla a livello di fantasy. Fantasy che tra l'altro adoro. Quindi vedremo. Intanto adesso qui tra due giorni arrivano i nuovi arrivati. Quindi se riusciamo con tre case due persone a casa. Anche se qua sono tre. Riusciamo ad accogliere nuova gente. Meglio così. Così almeno arriviamo a 18. E completiamo anche questo obiettivo qua. E a questo punto salvere la partita. Così da averla qua. Nel caso in cui il gioco vi piacesse. E voleste vederlo ancora. Magari in live. Questa volta che ha più senso. In modo che lo giochiamo. Lo poniamo insieme. Pensate qualcosa da chiedere. Insomma io sono qui. Due visitatori. Perfetto. Siamo a 15. Ormai. No 14. Ho una lettera da nominatore. Puoi aprirla cliccando al centro del tuo schermo. Ah questa. Ok. Questa purtroppo non è tradotta ancora. Perché è uno dei nuovi personaggi. C'è la principessa Stagnino. Quindi dovremmo aspettare anche lì la traduzione. Quindi molto interessante anche questa cosa. Lo comunicherò comunque. Che ho già provato la traduzione. Ma il traduttore ci sta veramente dietro. Perché è appassionato del gioco. Quindi avremo la traduzione aggiornata. Se non integrata magari nel gioco finale. Chi lo sa. Ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Grazie a tutti